E adesso vi presentiamo un giovane campione del mondo con Alberto Tabbì. Questo che vedete è il trofeo per il campionato del mondo di pizza. L'ha vinto Domenico Caserta, 24enne, pizzaiolo di Ostia. Raccontaci questo cammino per arrivare a questo titolo mondiale. È stata una bella soddisfazione. Insomma, c'erano più di 200 concorrenti. E insomma, sbaragliare la concorrenza non è stato facile, però è stata una bella soddisfazione. Come si è articolata la gara? Era divisa in 11 categorie, alle quali i concorrenti partecipavano al Palacavicchi, a Ciampino. E la somma di queste categorie dava il... La vittoria assoluta, la vittoria conquistata. Qual è la pizza che è stata determinante, secondo te, che ha conquistato la Giulia? Beh, la margherita è sempre la classica, il cavallo di battaglia, insomma, diciamo. Ma il segreto di questa pizza, lo possiamo dire, oppure... Ma ha tanta passione, tanta passione. Poi, insomma, gli ingredienti sono quelli, sono scritti, sono registrati, non c'è nessun segreto. Ma la passione è quella che fa la differenza, insomma. Come si sente campioni del mondo di questa specialità? Devo dire la sincerità, come prima, sempre... Cioè, non mi ritengo un campione, ma faccio sempre, insomma, come prima. Però, una bella soddisfazione. Presidente, una grande gara, una competizione di grosso spessore? È stata una grandissima gara di grossissimo spessore, perché abbiamo avuto, di tutto il mondo, i concorrenti, Giappone, Inghilterra, Olanda, Spagna, Grecia, Tunisia. Fa capire che, praticamente, un prodotto semplice come la pizza ha entusiasma in giro per il mondo, perché l'unica parola che dicono in tutto il mondo è pizza. Per cui, la pizza, il prodotto made in Italy, è molto importante, perché noi divulghiamo i prodotti tipici italiani. E l'agure è che, naturalmente, Domenico Caserta possa difendere l'anno prossimo questo titolo, qui in casa, da Ostia, per Canale 10, Alberto Tassi.